Processo per voto di scambio a carico dell'ex amministratore unico di ACS Amedeo Gabrielli, quanto richiesto al GUP Landolfi dalla procura di Avellino. Il 9 novembre è fissata l'udienza preliminare. Oltre a Gabrielli, la notifica è arrivata per altri cinque imputati. Maria Stingo, Raffaele Matarazzo, Carmine Antonello Ciccarone, Barbara Materic e Sergio Festa. A Gabrielli è contestato il reato di corruzione elettorale, con le intercettazioni telefoniche che lo vedono protagonista con lo stesso Sergio Festa, colloqui nei quali l'ex amministratore unico di ACS avrebbe promesso al figlio di Festa un posto di lavoro in cambio di alcuni voti in favore del candidato presidente al consiglio regionale e di un consigliere. Ciccarone e Matetic dovranno rispondere invece del reato di peculato. Avrebbero utilizzato un telepass e una carta di credito collegata ad un conto corrente aziendale per pagare casella autostradale alcuni soggiorni in hotel. Stesso reato contestato anche a Raffaele Matarazzo, che si sarebbe appropriato di tre biciclette aziendali. A Maria Stingo, come amministratrice della cooperativa CCSI, in concorso con Sergio Galluccio e Vincenzo Marciano, sono contestate delle agevolazioni nelle assunzioni indicate da Gabrielli, in cambio di affidamenti diretti legittimi e di forniture per la sua cooperativa.